Da grande vuoi diventare attrice? Vuoi diventare attore? Devi studiare, non te ne pentirai. Puoi avere un talento infinito, ma anche in questo campo occorre lo studio. Lo studio della recitazione può essere anche molto divertente e poi tieni presente che qualsiasi cosa può essere molto utile nel campo della recitazione, da saper suonare il pianoforte, all'andare in moto, al conoscere la storia. E tu, padre inflessibile che inorridisci ogni volta che senti tua figlia dire che da grande vuole diventare attrice, tu pensavi per lei ad una carriera nel campo dell'ingegneria nucleare, ma sei sicuro che sarebbe un ingegnere nucleare felice? Perché quando sento le persone che hanno avuto l'enorme disgrazia di perdere un figlio, di solito affermano questa cosa, bisogna lasciare che i figli facciano la propria strada. Ora che ho perso ben due categorie di iscritti al canale, genitori e figli, solo tu mi puoi dare una mano, iscriviti al canale. Due premesse. Questo video non è sponsorizzato da alcuna scuola di recitazione. Due. Avere un quadro chiaro delle scuole di recitazione in Italia è impossibile, anche perché ne nascono sempre di nuovi. Mi limiterò a dirti quali sono le caratteristiche generali in base alle quali potrai scegliere la tua scuola di recitazione e ti dirò cosa si fa generalmente in queste scuole. Ovviamente in un video solo non ce la potrei mai fare, quindi oggi faremo chiarezza sulla questione dei diplomi e degli attestati. Studia. Quando andai io a scuola di recitazione, le cose erano più semplici e più difficili allo stesso tempo. Più facile perché le scuole non erano molte, erano storiche ed erano ben conosciute. Ma era anche più difficile perché più difficile era raccogliere le informazioni su queste scuole. Internet ovviamente esisteva, ma i social ancora no e lì spesso si possono trovare parecchie informazioni su una scuola. Occorre però cercare bene ed accertarsi sulla fonte delle informazioni. Recentemente ho provato anche io a raccogliere alcune informazioni sul panorama italiano delle scuole di teatro e ne è venuta fuori una roba sorprendente. Anche per questo ho pensato di fare questo video, per aiutarti a non prendere fregature, anche perché i furbetti sono dietro l'angolo. Cosa ti può chiedere una scuola di recitazione? Talento, tempo, fisicità, anima. Ecco, ti chiedono l'anima come in ascensore per l'inferno. Mephistofele è un nome troppo roboante per Manhattan, John. Ma se ti chiedono l'anima è per restituirtela un po' migliore. Ci sono scuole di tutti i tipi, ci sono anche ottime scuole serali con insegnanti davvero in gamba, che dagli allievi riescono a tirar fuori tantissimo in pochissimo tempo. Ci sono poi scuole professionali che ti impegnano per tutto il giorno, per due o anche tre anni. Ci sono scuole che rilasciano attestati che possono essere utilizzati per incartare il formaggio. Ci sono scuole che rilasciano attestati regionali. Ci sono scuole che rilasciano diplomi di laurea. Non sono molte, ma ce ne sono. Ma un titolo per fare gli attori serve a qualcosa? Beh, non ha tantissimo, direi. Ma è un bel dire che sei diplomato alla scuola di Paperon de Paperoni se poi a recitare sei un cane. Non ti prenderanno mai per nessun lavoro. Però se ti dovessi riciclare come insegnante di recitazione, beh, un pezzo di carta potrebbe fare comodo. E siccome nell'ambiente spesso è necessario riciclarsi, ecco, magari un pezzo di carta ti è utile. Il pezzo di carta, però, deve essere riconosciuto da qualcuno. Il MIUR, per esempio, ma anche una regione. Un diploma è tale quando c'è un'istituzione che lo riconosce. Altrimenti si chiama Fede. E quella è gratis, a meno che non stai con Scientology. Alcune scuole vendono corsi dicendo che alla fine viene rilasciato un titolo riconosciuto a livello nazionale. Ma da chi? Non è che se domani mattina vado da Sorrentino con il pezzo di carta firmato da Paolino Paperino che dice che sono un attore riconosciuto a livello nazionale, Sorrentino mi faccia fare un film. Altrimenti domani pomeriggio metto in piedi una scuola di recitazione dove dico che do dei diplomi riconosciuti da me e dai miei amici di Facebook. Ma è il resto del mondo? Quando si fanno scuole che rilasciano diplomi validi, c'è una commissione ministeriale o almeno regionale. Ci sono dei funzionari pubblici che vengono e assistono agli esami. Iscriviti al canale perché presto parleremo di altri argomenti pratici, per esempio quanto denaro serve per imparare a recitare. E poi scopriremo cosa possono e cosa non possono chiederti in una scuola di recitazione. L'argomento è fondamentale perché ci sono delle regole non scritte, tra cui il rispetto. Ed il rispetto è una cosa importante, soprattutto da parte degli insegnanti. Padre del giovane pieno di speranze, sappi che la vita è sua, non è la tua, e a te non spetta guidarlo, spetta solo indicargli la strada. Anche perché lui, probabilmente, è molto più in gamba di te. E tu, giovanotto di belle speranze, occhio, perché questo è un lavoro molto difficile. Te lo dimostra l'alta percentuale di drogati e ubriaconi di cui è farcito il mondo del cinema. Ma soprattutto, fai attenzione ai figli di buona donna che si arricchiscono sui tuoi sogni. Perché muoversi in questo ambiente è come fare una passeggiata in un campo appena concimato. Il rischio di pestare merde è altissimo. Guarda anche gli altri video del canale. Troverai un sacco di robe interessanti su agenti, provini, self-tape e tanto altro. Puoi scegliere la tua... Scegliere? Scegliere, hai detto? Ed accertarsi sulla... Accertarsi. Occorre però cercare bene ed accertarsi... Accertarsi. Sempre le campane che rompo.